Allora, Igo Gabrovec, voi siete i primi più lontani, quelli che sono arrivati per primi. Avete fretta di consegnare? I primi più affezionati probabilmente, non è un caso anche perché la Solvenska Skupnost è il partito più vecchio, con più tradizione nel Friuli Venezia Giulia. È l'unico di tutti i partiti oggi presenti in Consiglio regionale che aveva un proprio rappresentante con lo stesso nome e lo stesso simbolo già nella prima legislatura regionale. presenti con lo stesso simbolo, lo stesso nome, nella prima e anche nell'ultima. Quindi è una certa continuità, un partito che ha radici forti e che si ripresenta di volta in volta con candidati nuovi e sempre più innovativi.